Sì, credo che sia una cosa molto positiva. Per la prima volta lecco il campionato italiano di paracadutismo, il campionato di precisione e per la prima volta al di fuori di un aeroporto, cioè con la possibilità di avere spettatori pubblico per un evento spettacolare di uno sport magari poco conosciuto, ma sicuramente bello e di grande impatto. Nel tempo di uno sport come questo, sia per ragioni di sicurezza che di spettacolo, è essenziale. Credo che sia un'opportunità per la città e non dimentichiamo che arriveranno squadre da diverse parti d'Italia e anche dall'estero, Austria, Svizzera e soprattutto arriveranno i veri professionisti del paracadutismo, delle scuole, del nostro esercito, dei carabinieri, per cui sarà veramente un momento importante per il nostro territorio. Sì, un campionato italiano ANPD di precisione in atterraggio. Adesso le adesioni che abbiamo avuto sono circa una sessantina di atleti, di cui due squadre, una è il CISM Svizzero, che è una squadra militare svizzera, e la Brunnen Friend, che è una squadra austriaca. Come appunto dicevi, siamo campioni del mondo in questo momento, sia squadre sia individuali. Il nostro centro sportivo esercito. Ai lecchesi lo fanno più amatorialmente, però anche noi lottiamo. Ovviamente non lotteremo per il podio, però a noi piace molto questa disciplina e vorremmo farla vedere al più. In questo momento siamo iscritti in 198, sono tutti ex militari della Folgore, qualcuno ha fatto il corso da noi, praticanti che saltano saremo una 30-40 persone. L'obiettivo che dovete centrare è di 2 cm? L'obiettivo che noi dobbiamo centrare è di 2 cm. Questo vi dice la difficoltà, perché saltiamo da 1000 metri e noi da 1000 metri dobbiamo andare a centrare un bersaglio di 2 cm. Grazie.